Il programma è offerto da 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 Poi come sapete amici In Toscana noi abbiamo la fortuna di poter cacciare tutto l'anno questo Ungolato Abbiamo trovato un posto veramente fantastico C'è un campo Passaggio degli animali Sembra che ci sia A questo punto ci andiamo a preparare Vediamo cosa succede e Speriamo che la serata sia proficua a frapporto. Ciao a tutti e benvenuti in un altro Real Test. Oggi abbiamo una copiata tutta europea. La CZ 557 Eclipse abbinata allo Zeiss Conquest V4 3,12x56. Vediamo un po' nel dettaglio che cosa troviamo nelle rispettive confezioni. Allora! Nella confezione della nostra carabina, in cartone, troviamo un classico CD dei prodotti CZ e il manuale di istruzioni. Per quanto riguarda il cannocchiale, abbiamo la classica guideline di Zeiss con garanzia. E i copri lenti che abbiamo già installato. A questa copiata europea abbineremo un prodotto americano, il Bashnel Prime 8x32. un prodotto versatile, leggero e compatto, che può essere utilizzato per svelate tipologie di istituzioni e ovviamente noi lo porteremo in quella che ci piace di più, a caccia. Nella confezione troviamo la trousse di trasporto con le varie accessoristiche, come la cinghia di trasporto e panni per la polizia. Vediamo ora nel dettaglio il nostro sistema d'arma. Qui abbiamo la nuova 557, che è caratterizzata da questa calciatura estremamente confortevole e piacevole dal tatto. Mi sono proprio innamorato di questa calciatura, ma andiamo per ordine. Come vediamo, infatti, partendo dalla canna, la volata è filettata per poter installare accessori di ogni tipo. Abbiamo l'azione 557, collaudata, in questo caso camerata in 30.06. L'atturatore è caratterizzato da una certa scorrevolezza, con uno sforzo assolutamente minimo nell'assenamento. Lo scatto è di tipo diretto, molto corto, molto corto e netto, non leggerissimo, ma non fa rimpiangere lo stacker. Sicura ha due posizioni, che blocca la catena di scatto. Tornando alla calciatura, che è l'innovazione maggiore di questo modello, ha un rivestimento soft touch estremamente confortevole, come vi dicevo. È una pistol grip di foggia particolare, come vedete, molto dritta, che io trovo estremamente confortevole. E anche se appunto non è di dimensioni particolarmente ridotte, io con le mie piccole mani ci sto veramente comodo. Ed è veramente intuitivo e immediato poterci mettere la mano sopra e arrivare al grilletto, oltre che gli altri comandi. Veramente, veramente un bel lavoro di ergonomia. Il calciolo è un classico, ammortizzate, molto morbido, confortevole e anche con un bel grip. Le finiture, vediamo una bonitura estremamente ben fatta e accurata. E l'azione è contraddistinta dalla classica slitta proprietaria CZ, alla quale abbiamo abbinato, come vedete, gli anelli proprietari in acciaio. Su di essi abbiamo montato il nostro Zeiss Conquest V4 312x56. Vediamo nel dettaglio. È un cannocchiale di impostazione tradizionale, non ha paralasse, ha un paralasse pretarato circa 100 metri. Di nuovo a foggia è la ghiera per gli ingrandimenti, molto fluida e comoda, senza essere aggressiva con le mani. Le torrette sono di tipo coperto, svitabili, con click, netti, belli netti, corposi, da un quarto di MOA, parametro classico. Un abbinamento sicuramente interessante e molto 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 semplice, ma a sostempo concreto, che non vedrò di vedere a caccia, ma prima c'è il poligono. Eccoci tornati ad Apecchio al poligono Cora per provare la nostra GZ 557 con Zeiss Conquest V4. Per questo test utilizzeremo le Federal Premium Trophy Bonded con palla da 165 grani e punte in plastica monolitiche. Vediamo cosa faranno. Un bersaglio. Grazie a tutti. Oh che piangolino che ho fatto. La nostra CZ a rispetto di un prezzo estremamente concorrenziale ha prodotto il risultato di rilievo. Dopo gli vari azzeramenti del caso, questa è la rosata che abbiamo prodotto a 200 metri. Vediamo un colpo leggermente a destra, ma probabilmente è anche stato colpo del tiratore. Ma devo dire che il binomio tra la 557, il Conquest V4 e le cartucce della Federal hanno prodotto un risultato veramente, veramente notevole. Vediamo infatti il gruppo è bello regolare, è un bel triangolo. E a 200 metri siamo ben, ben, ben al di sotto della zona vitale dei nostri invulati. E ora non resta che verifichare la letalità delle Federal a caccia. Bene, grazie Valentino. Adesso tocca a noi Antonio. Tocca a noi mettere in pratica quello che Valentino sicuramente ha fatto alla perfezione, con professionalità. Vediamo che cosa succede. Tocca a noi mettere in pratica quello che ha fatto alla perfezione. Grazie a tutti. 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 Un tiro non difficile, un'ottantina di metri, però... Sì, sì, assolutamente. Siamo stati anche fortunati perché siamo ancora a giorno, sono quasi 8 e mezza. Senti, e quest'ottica? L'ottica si è rivelata anche questa di notevole pregio perché è bella, luminosa. Sì, ho usato anche, tra parentesi, pochi ingrandimenti perché erano 6 ingrandimenti, anziché sfruttarne appunto il massimo 12. Però, nitidissima, per cui ho avuto tutto il tempo di inquadrare bene l'animale. Sì, inquadrare, di solito, il tempo. Senti, e queste tartucce? Le trophy bonded? Le trophy bonded, appunto, 165 grani. Esattamente. E nosevoli direi, no? Sì, ha fatto 20 metri dentro il campo. Infatti avete visto anche nel video, si vede bene, ha tirato, è partito, ma ha fatto veramente 20 metri. E per cui dovrebbero aver lavorato bene. L'animale, la spoglia dell'animale è perfetta. Si va a vedere, poi ora lo apriamo e vediamo come si è comportato. Senti, parlami un po' anche di questo binocolino. Allora, questo binocolino, che è appena un 8x32, ma in realtà è un signor binocolo. Assolutamente. Perché va bene, ancora luce c'è, ma è di una nitidezza eccezionale. Questa linea, il Bushnell, che ha fatto questa linea, è veramente... È di una nitidezza eccezionale, per cui va benissimo. Ma poi è comodo, perché è piccolino, te lo smaneggevole. Certo, certo. Questo, amici, è un binocolo, perché si presta molto bene anche, per dire, da tenere in macchina, se uno c'è da vedere una cosa, così a volo, è veramente ben fatto. È valido, validissimo. Infatti l'ho visto anche io. Anzi, ti dirò di più, che avendolo già provato in altre occasioni su ore più crepuscolari, nonostante tutto, ha sempre la sua nitidezza. Nonostante appunto una lente di 32, quindi... Assolutamente, assolutamente. Bene, che dire, amici, anche questo test è finito. Quindi vi aspettiamo per i prossimi videotest, sempre dei prodotti vignai, naturalmente... Naturalmente, su cacciatoriveri.tv Questo programma è stato offerto da... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.